Filippo Busin, le previsioni dell'Unione Europea dicono che l'Italia l'anno prossimo il deficit calerà, seppur di poco, ma aumenterà la disoccupazione. Arriveremo al 12,5%, un dato critico soprattutto per la situazione economica delle famiglie italiane. Sì, certo, la crisi non è affatto alla fine, nonostante i proclami di saccomanni. Il 2014 si presenta come un ulteriore anno di sofferenza per le famiglie italiane, il PIL cresce ma quasi metà di quanto era previsto, la disoccupazione addirittura sale. Noi ribadiamo che manca una politica industriale in questo paese, manca una vera politica di riforme radicali che faccia ripartire il paese. Il governo Letta non sta facendo niente per il nostro tessuto industriale produttivo che è quello che può dare qualche speranza di ripartenza del PIL e dell'occupazione. Diciamo che questo governo, come abbiamo già detto in altre occasioni, non sta facendo niente di risolutivo, di radicale, vivacchia, galleggia con politiche assolutamente ininfluenti sulla situazione reale. Per cui ci aspetta un altro anno, 2014, di passione per le famiglie italiane che vedranno ancora aumentare la disoccupazione, ancora aumentare le difficoltà e nelle mani di un governo che non decide, si ostina a rimandare i posteri la soluzione che invece dovremmo trovare con urgenza.